Sarà una selezione di giovani atleti e atlete della Nuro Softball a rappresentare la Sardegna nel torneo di softball che verrà disputato in occasione del trofeo CONI organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Le finali nazionali dell'evento sono in programma a Cagliari e nel suo Interland dal 22 al 25 settembre. Alla manifestazione promossa dal CONI insieme alle federazioni sportive nazionali e al Comitato Italiano Paralimpico parteciperanno oltre 4.000 atleti provenienti da tutta Italia. Si tratta di una competizione riservata ai giovani sportivi tesserati Under-14, limitatamente alla fascia d'età 10-14 anni. La nazionale sarda di softball, oltre che dagli atleti nuoresi, sarà formata da alcuni giocatori della società Cuba Sardi di Cagliari. Il trofeo CONI relativo al softball vedrà in lizza 8 squadre e sarà disputato presso il campo di calcio del Tanka Village. La squadra sarda sarà accompagnata da Simona Garau, Mayra Liori e Anna Piresino. La Nuoro Softball da anni rappresenta la punta di lancia del movimento in Sardegna con un florido vivaio. La prima squadra invece partecipa stabilmente all'Italian Softball League, la Serie A femminile. In questi anni la società nuorese si è distinta anche sul piano organizzativo, ospitando sul proprio diamante i campionati europei cadette, che in campo femminile l'anno scorso sono stati vinti dall'Italia.